Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vi parlerò dell'analisi facciale di Zoe Saldana e del suo fenotipo in generale. Siamo nella playlist della biodiversità umana e dei fenotipi umani. La trovate proprio sul mio canale questa playlist, qui ho parlato proprio in diversi video di tutti quelli che sono i fenotipi umani e ho analizzato i fenotipi di varie star se vogliamo. Ho parlato del fenotipo per esempio di Margot Robbie, di Chiara Ferragni, di Angelina Jolie, di Anna Lisa, di The Rock e di tante altre persone. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e cominciamo subito. Zoe Saldana diciamo che ha un'altezza di 170 cm e la sua nazionalità è una nazionalità statunitense. Tuttavia diciamo, come vedremo meglio dopo, le sue origini sono proprio caraibiche. Infatti il suo fenotipo è un fenotipo caribettaino, si definisce appunto. E capiremo meglio dopo che cosa significa tutto ciò. Il biotipo corporeo nel complesso è un biotipo ectomorfo, cioè magro e slanciato. E il rapporto vita-fianchi è un rapporto di uno a uno. I suoi capelli sono dei capelli lisci, quindi dritti e neri. E chiaramente presenta, diciamo, un lieve accenno degli occhi a mandorla. Questa condizione appunto prende il nome di pliche epicantiche. Le sue pliche epicantiche sono lievi. Il cranio possiamo dire che non è, se vogliamo, troppo lungo, ma non è nemmeno troppo corto. Quindi è un cranio che viene definito come cranio mesocefalo. Per quanto riguarda la sua faccia, la faccia, diciamo, tende ad essere invece leggermente allungata, condizione che va sotto il nome di leptoprosopia. In più, la colorazione della sua pelle non è di per sé marrone o nera, se vogliamo, ma, diciamo, tende sì ad essere marrone, ma tende anche ad avere delle sfumature leggeri giallastre. Rientra per eccellenza nell'umanità xantoderma, si definisce in questo caso. E tutto ciò lo capiremo anche meglio dopo. Il collo è magro, ma è slanciato, ma nonostante sia magro, come potete vedere in questa foto, comunque è dotato di una buona struttura muscolare. La biprotrusione delle ossa mascellari, cioè la sporgenza delle ossa mascellari, diciamo, di profilo, non è estrema, ma è appunto ben contenuta. Tuttavia è presente rispetto ad un europeo. L'angolo della mandibola tende quasi ai 90 gradi. I pomelli zigomatici sono marcati e questo è tipico proprio di chi ha un'ascendenza asiatica. E qui molti di voi potrebbero avere giustamente dei dubbi, cioè potrebbero dirmi, ma se lei è caraibica, mettiamola su questo piano, come fa ad avere discendenza asiatica? Ebbene sì, diciamo che i nativi d'America, gli autoctoni d'America, se vogliamo, hanno discendenza asiatica. L'umanità, molti anni fa, diciamo, lungo la storia proprio dell'umanità, dobbiamo spostarci parecchio indietro, praticamente era presente in Asia l'umanità, ma non era ancora presente in America. L'uomo poi è iniziato a colonizzare le Americhe, quindi gli asiatici sono stati quelli che per primi hanno colonizzato le Americhe attraverso un ponte di ghiaccio che all'epoca era presente, che prende appunto il nome distretto di Bering. Quindi tutti gli indiani d'America, dal nord dell'America, parliamo per esempio degli eschimesi, al sud dell'America, come per esempio i fuegini, sono tutti quanti di discendenza asiatica. E Zoe Saldana rientra proprio in questi gruppi di discendenza asiatica, molto lontana ovviamente. Possiamo dire che nel complesso la sua fronte è larga e anche ben sviluppata. Il volto è altrettanto ben sviluppato, non è il volto di una persona malocclusa se lo si va a vedere, diciamo così, tuttavia se notate spesso video in cui lei parla noterete un leggero affollamento degli incisivi inferiori. E questa ovviamente è una condizione molto comune, è una condizione molto comune negli umani moderni, civilizzati ovviamente. Anche lei, come Angelina Jolie e come Margot Robbie, ha la cosiddetta anteface, cioè una caratteristica facciale in cui mascella e mandibola sono squadrate e creano una linea armonica del profilo del soggetto e tendono ad andare, diciamo, le labbra superiori e inferiori tendono ad essere proiettate più in avanti rispetto alla linea della fronte se si fa vedere il soggetto di profilo. Questa chiaramente è una condizione gradevole dal punto di vista estetico. Per quanto riguarda il suo naso, è un naso stretto e lungo. la mandibola non è sciolta ma è ben sviluppata e il mento è nella media, comunque è una buona struttura. C'è una leggera neotenia, cioè una leggera persistenza di tratti infantili, in età adulta, ovviamente tutto questo aumenta la bellezza. Abbiamo detto che è taino, che cosa significa? I taino erano appunto quei popoli dell'America pre-colombiana che si ridussero ed estizzero con l'arrivo dei coloni europei per tre fattori, per via delle armi e quindi dell'acciaio portato dalle armi e anche delle malattie. E chiaramente questi taino erano presenti nell'odierna Haiti, nell'odierna Repubblica Domenicana, nell'odierna Cuba, nell'odierna Puerto Rico. E chiaramente questi popoli diciamo che erano taino, poi si estizzero completamente, furono sterminati completamente dai coloni europei, alcuni di essi invece si andarono a dibridare con gli schiavi di l'Africa diciamo, e quindi chiaramente scomparvero se vogliamo i taino. Nel 2018 però un'analisi del DNA fatta sull'isola ispagnola, in particolar modo di un dente taino antico, ha permesso di mappare studiare il loro DNA meglio. E poi i successivi studi di genetica molecolare hanno permesso di capire che nelle moderne popolazioni dei Caraibi è presente il DNA taino, sebbene appunto ci siano stati fenomeni comunque sia di hibridazione con gli europei e con gli schiavi dell'Africa, come vi ho detto appunto prima. E quindi sono tanti soggetti oggi che a tal riguardo proprio per questo motivo rivendicano l'ascendenza taino. Sebbene Zua Saldana, che pur vivendo negli Stati Uniti d'America sia originaria, diciamo, delle suddette aree dei taino, non è proprio una taino pura, bensì è una caribe taino. E un test del DNA, in questo caso, sarebbe di rimente per poter comprendere meglio e a fondo le sue origini e i suoi antenati attraverso il ramo materno e il ramo paterno, ma anche attraverso il DNA autosomico. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale, condividendo il video con altri utenti, in modo tale da far crescere sempre di più questa community e da renderla sempre più utile per tutti. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!